I carabinieri della stazione di Priolo hanno tratto in arresto, in flagranza e in reato, Biaggio Di Mauro, commerciante catanese con presenti polizia e Luigi Lombardo, disoccupato siracusano. Nello specifico i due sono stati sorprese dai militari dell'arma mentre smantellavano alcuni tabelloni pubblicitari abbattuti dal maltempo nei giorni scorsi e accadastati a terra in un'area antistante al centro commerciale Oshan in attesa di essere recuperati e poi ripristinati alla ditta che li gestisce. I carabinieri della stazione Priolo, avendo contezza anche dei pacienti specifici dei due uomini, hanno contattato il titolare della ditta proprietaria di tabelloni per assicurarsi che quelle persone non fossero state inviate da lui. Dopodiché hanno recuperato l'area furtiva del valore di circa 6.000 euro già caricata su un furgone per essere venduta come ferro vecchio e l'hanno restituita all'egittimo proprietario. Di Mauro e Lombardo sono state arrestate per furto di materiale ferrosa, sottoposte a domiciliari in attesa di essere processati con il rito per direttissima.